Benvenuti e benvenute a questo culto domenicale. Vi invito a ritrovarci alla presenza del Signore. Il nostro principio, il nostro aiuto, la nostra speranza e ogni nostra consolazione sono in Dio che ci ha creati e che ci salva in Cristo Gesù. Dice il Salmo 33, beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che gli ha scelto per sua eredità, ecco l'occhio del Signore e su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui si rallegrerà certamente il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel Suo nome santo. Vi invito a pregare. Eccoci davanti a te, oh Signore, per rallegrarci delle tue promesse. In te è la pienezza della vita, in te è conforto e protezione, in te possiamo crescere e fortificarci per portare con gioia il tuo annuncio a tutte le genti. A te, oh Eterno, noi cantiamo la nostra lode. Amen. Il testo della nostra riflessione quest'oggi si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 8, i versetti da 28 a 39. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conforme all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primo genito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinato li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamato li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà? Gli eletti di Dio. Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, ancora più risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Saranno forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di Colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti, né cose future, né poteri, né altezze, né profondità, né nessun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Signore, vogliamo raccoglierci un attimo in preghiera. Signore, eccoci in silenzio davanti a te per trovare nell'ascolto e nella meditazione della tua parola una luce per il nostro cammino. Le nostre vite sono spesso schiave delle nostre abitudini, dei nostri impegni, delle nostre difficoltà, ma vogliamo essere ancora capaci di riconoscere che tu sei il vero padrone delle nostre vite. Vogliamo porci all'ascolto della tua parola e ricevere da te una guida sicura. Amen. Mi scuso, il testo è un po' lungo, quello che vi ho letto, ma è un ragionamento che l'Apostolo Paolo fa che potremmo riassumere così. Guardate che andrà tutto bene. Ve lo ricordate lo slogan all'inizio della pandemia? Adesso non lo dice più nessuno. Ebbene, Paolo in realtà dice ai credenti andrà tutto bene perché tutto coopera al vostro bene. Dio ha deciso così e ha deciso addirittura di inserirvi, inserirci, nella sua famiglia, dove Cristo è il primo genito, ma dove noi siamo suoi fratelli e sue sorelle. E perché andrà tutto bene? Ma perché il Signore ha deciso di sceglierci, di chiamarci a questo destino. Lo ha deciso Lui. Allora cominciamo a fare una prima riflessione su questo. Se noi un giorno abbiamo detto un sì al Signore, perché sentivamo la fede, con mille dubbi perché quelli non mancano mai, ma sentivamo la fede agire in noi, noi dobbiamo ricordarci che questo sì lo abbiamo detto non di nostra decisione, ma in seguito a una domanda che il Signore ci ha rivolto, in seguito a una vocazione. Questo dovrebbe farci riflettere a sufficienza sul fatto che se noi siamo chiamati da Dio dobbiamo essere contenti di questo fatto, chiamati nella vita a servirlo, ma anche a parlare di Lui, agli altri, alle altre che incontriamo nella nostra esistenza. Bellissimo discorso. Andrà tutto bene. E già ma qualcuno deve aver detto a Paolo quello che diciamo tutti noi. Sì, caro Paolo, però ci sono le malattie, le sofferenze, la morte, i problemi, le difficoltà, le angosce. Come fai a dire che andrà tutto bene? Andrà tutto bene, risponde Paolo, perché noi non siamo destinati solo a questa vita. C'è una vita più grande che va oltre questa esistenza che noi chiamiamo resurrezione, perché questo è quello che Gesù ha vissuto, non sappiamo esattamente come sarà, ma andrà tutto bene perché noi non siamo più limitati dalla morte. Però le difficoltà rimangono. Essere cristiani non vuol dire essere risparmiati dalle difficoltà. E guardate che Paolo qui ne fa un elenco di quelli pesanti. Tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada. Cioè tutte le possibili difficoltà che noi possiamo incontrare nella vita e che all'epoca di Paolo erano molto più reali delle nostre difficoltà, perché grossi pericoli, la spada, la fame e la nudità, ne sentiamo parlare, riguardano spesso altri purtroppo, ma non noi. Eppure Paolo ha il coraggio di dire ebbene neanche questo ci può separare dall'amore di Dio, neanche questo può impedirci di dire che andrà tutto bene. Ma ci sono molte cose, e questo è il terzo ragionamento che vorrei fare con voi, ci sono molte cose che fanno di tutto per strapparci questa fede. Ci sono i problemi della vita, ci sono le persone che ci dicono non lascia perdere, cosa vuoi credere, roba superata. Ci sono le grandi difficoltà. E qui l'Apostolo osa l'inosabile, lo può osare solo lui. Dice Io sono sicuro che né la morte né la vita ci possono separare da Cristo. Né le cose che succedono adesso, né le cose che succederanno in futuro. Non i poteri alti, diabolici, non le altezze, neppure le profandità, né nessun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Vedete, questa è la grande promessa. Rivolta a chi? A noi che siamo stati scelti da Dio per essere Suoi testimoni. Se rimaniamo legati a questa promessa nulla ci può strappare da Lui. Certo, bisogna rimanere legati. Mentre vi parlo fra le tante cose che succedono nel nostro Paese adesso c'è lo scandalo di quei politici, non solo deputati, ma vari, anche consiglieri regionali, che poverini, guadagnando solo 20.000 euro al mese, avevano chiesto anche loro il bonus di 600 euro per le partite IVA che non lavoravano. E difendendosi, e qualche giornale difendosi, dicendo ah ma potevano, secondo la legge perché era aperto a tutti, certo, era aperto a tutti. Ma la coscienza cosa ti porta a fare? Allora, molte volte essere predestinati da Dio significa anche che noi ci sentiamo predestinati a confrontarci con la nostra coscienza e a sapere che se una cosa è lecito, lecita, non è necessariamente utile e i credenti dovrebbero essere in prima fila in questa strada, non cercare scappatoia. Se una cosa è permessa non vuol dire che tu la debba fare perché tante volte va contro ciò che il Signore vorrebbe da te. noi chiamati da Dio ad essere parte della sua famiglia abbiamo questo carico in più quello di esaminare con la nostra coscienza se è giusto fare tutto quello che la legge umana permette. e no abbiamo un carico in più meno male a noi è stata data una grande promessa la promessa di essere eternamente col Signore che nulla ci potrà strappare da Lui e allora in questa vita dobbiamo cercare di correre secondo le regole che il Signore ci ha dato che non sono contrarie alle leggi del buon senso umano ma alle volte vanno al di là ci dicono devi fare quanto è in tuo potere per essere degno della vocazione che ti è stata rivolta un esempio banale banalissimo noi nei proverbi italiani diciamo spesso non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te e qualcuno diciamo l'ha detto Gesù no no Gesù ha detto il contrario ha detto fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te cioè inizia tu a essere un chiamato dal Signore predestinato alla sua salvezza Amen chiamo chiamo la sua salvezza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi invito ora a raccoglierci in preghiera. La preghiera di intercessione, cioè un momento di preghiera per gli altri, per quelli che sappiamo avere bisogno dell'intervento di Dio nella loro esistenza. Signore, noi pensiamo adesso a tutti quelli che hanno più bisogno di Te. Pensiamo ai malati, a quelli che sono soli, a quelli che debbono fare una battaglia tremenda contro le difficoltà della vita. Pensiamo poi a tutti gli uomini e a tutte le donne costretti a lasciare i loro paesi a causa della guerra, dell'ingiustizia, della povertà e della fame. Pensiamo a tutti gli uomini e a tutti gli uomini e a tutte le donne che nel nostro paese hanno grandi difficoltà col lavoro perché l'hanno perso o non riescono a trovarlo. Ti preghiamo per tutti quelli e quelle che per la tua fede corrono dei rischi. Pensiamo in modo particolare ai cristiani che vivono clandestinamente la loro fede in Cina, in Norcorea, in molti se non tutti i paesi islamici. Loro corrono grandi rischi per credere, Signore, fa che noi impariamo dalla loro fede tenace. Ti preghiamo poi per noi affinché restiamo capaci di essere fedeli alla vocazione che ci hai rivolto, alla scelta che hai fatto, di inserirci nel numero dei tuoi figli e delle tue figlie. Ti chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. La tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen Grazie a tutti i nostri debiti. Ci salutiamo con queste parole di benedizione che sono contenute nella nostra liturgia odierna. Andiamo in pace, figli e figlie di Dio, forti della certezza che Dio ci invia e che Lui stesso cammina davanti a noi. Andiamo per condividere con altri la gioia e la potenza che ci giunge dalla promessa d'amore che da Dio abbiamo ricevuto. Amen Arrivederci fratelli e sorelle, buona domenica.